Gli scrivo l'elenco di tutti gli imbucati che stanno qui a Palazzo Chigi, questi sono gli elenchi degli estranei, cioè quelli sine titolo, quelli che non hanno mai fatto un concorso nella pubblica amministrazione, sono consulenti esterni che la Presidenza del Consiglio dei Ministri in carica con delle consulenze a 200.000 e più all'anno, questa è la prima pagina, questa è la seconda pagina, hanno preso dei pensionati ultra settantenni che già hanno avuto le loro belle pensioni d'oro lavorando qui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno avuto la loro liquidazione d'oro e ora continuano a tenere le radici qui a Palazzo Chigi, i 150 anni delle celebrazioni erano l'anno scorso se non ricordo male, erano nel 2011, invece c'è ancora una struttura qui a Palazzo Chigi che è coordinata da Giancarlo Bravi, data di immatricolazione 1942, quindi è un signore con 70 anni, consigliere qui già a Palazzo Chigi, la preghiera che noi rivolgiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri che riteniamo una persona per bene, che però faccia delle cose davvero utili per gli italiani, cominciando dal palazzo nel quale risiede, perché tra l'altro per i dirigenti di prima fascia ha una dotazione di 80 unità, per i dirigenti di seconda fascia ha una dotazione di 214 unità, non c'è bisogno di dare delle consulenze d'oro all'esterno e far pagare ai contribuenti dei soldi che specialmente oggi gli italiani penso non debbano più pagare. E questa è la vera casta che sta ancora qui dentro. Si sta parlando tantissimo in questi giorni di ridurre ad esempio il numero dei parlamentari per diminuire i costi della politica. Allora, basta che il Presidente del Consiglio caccia fuori tutti questi abusivi di Palazzo Chigi, ha fatto quasi lo stesso risparmio che riusciremmo ad ottenere se ci fosse la riduzione del numero dei parlamentari. Quindi, come vedete, occorre molto poco per ridurre questa elefantiaca macchina della pubblica amministrazione. Questo Stato che è servito semplicemente per tenere un po' di amici, perché questi naturalmente fanno capo ai vari partiti. Ricordate una volta c'era il CAF, Graxi e Andriotti Forlani? Adesso ho l'impressione che ci sia il CAV, cioè che ci sia Casini, Alfano, che sta all'opera e direi più Veltroni, perché è quello che più riesce, vedo, naviga meglio nella palude che continua a stare dietro al governo Monti. I giovani stanno ancora aspettando? Togliamo un po' di ultrasettantenni e facciamo spazio ai giovani.